Giornata napoletana per due capi di Stato. Oggi erano presenti in città il Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier e il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il Presidente tedesco è arrivato in stazione centrale e si è recato prima al Goethe-Institut e alla sinagoga ebraica, poi a Villa Rosberi con Mattarella e nel pomeriggio al centro storico, tra Piazza San Domenico Maggiore e la Cappella San Severo, dove ha potuto ammirare il Cristo velato. Siamo molto orgogliosi di questa visita, una giornata intera nella nostra città, qui presenta anche il Presidente della Repubblica Villa Rosberi, quindi un segnale di grande attenzione per Napoli, ho visto il Presidente tedesco molto preso dal centro storico di Napoli, dalla complessità della nostra città, dalla bellezza, dall'umanità, ho visto come si è intrattenuto in particolare presso il Cristo velato, ma non solo, adesso prosegue la sua visita, ha ancora tante tappe, questa è la testimonianza di come Napoli è oggi all'attenzione internazionale, quindi di questo voglio esprimere anche gratitudine al Presidente della Repubblica del nostro Paese. Possono nascere anche delle collaborazioni, delle partnership con visite come queste? Queste visite ci sono proprio perché ci sono anche tante collaborazioni, con il Goethe per esempio collaboriamo tantissimo, Napoli storicamente, ma devo dire in particolare in questi anni ha molto accresciuto il suo ruolo internazionale, noi ci abbiamo sempre lavorato, questa è una città che ha una forte identità ma che si vuole incontrare con i popoli del mondo, siamo nel cuore del Mediterraneo e quindi queste relazioni internazionali sono fondamentali e ho percepito anche nel parlare col Presidente che si ha molto la sensazione di come Napoli stia cambiando in questi anni, io credo che questo sia un fatto importante e che venga colto dal Paese che è la principale potenza economica, istituzionale e politica dell'Europa penso che sia un segnale molto significativo per la nostra città. Ma farò se hai parlato di qualcosa in particolare? La città, città, cultura, umanità, di che devo parlare? Sono sindaco di Namo? No, no, solo di città, che è quello di cui volevo parlare, è quello che voleva sentire il Presidente. Questo è anche il segno della vivacità culturale di Napoli, che segnale stiamo dando come città? Ecco, questo è uno dei temi di cui ho parlato col Presidente e con i due ambasciatori, l'ambasciatore italiano in Germania e l'ambasciatore tedesco in Italia, proprio quello che si coglie è l'effervescenza è la qualità culturale, il grande cambiamento sotto il profilo dell'umanità della città. Questo è stato colto e anche tutti gli incontri, adesso pure alla sanità, dove andranno all'orchestra della sanità ensemble, dimostra che questo che sta accadendo a Napoli, cioè la rinascita culturale, viene percepita in tutte le parti del mondo. Io credo che questo sia un segnale che non elimina veramente i problemi della città, che sono tanti, ma sono segnali molto forti, basta vedere i tanti turisti tedeschi che hanno fermato il Presidente, diciamoci la verità, è un'immagine che 7-8 anni fa non la potevi nemmeno costruire con un quadretto, perché nessuno ci avrebbe creduto.